Abbiamo invertito una tendenza, sembra dai primi dati che si sia inventita una tendenza drammatica che se non si fosse invertita avrebbe portato al ritorno di malattie terribili come la poliomielite o la difterite quindi sembra che si sia sterzato mentre stavamo andando nel burrone ma siamo ancora il paese sviluppato di gran lunga che vaccina meno per cui abbiamo invertito una tendenza ma i numeri che arrivano in questi giorni le tragiche notizie, un bambino è morto in Sicilia e indicano che la strada da fare è ancora molta la strada da fare è quello di far capire a tutti che i vaccini sono non solo un atto di protezione individuale ma un atto di responsabilità sociale e soprattutto contrastare la cattiva informazione io non penso che debba essere concesso a delle persone di diffondere bugie pericolose e spaventare i genitori ritengo che la società debba in qualche modo difendersi da questi impostori che la mettono in pericolo questa è la mia opinione l'immunità di greggio si ha per definizione quando arriviamo sopra il 95% di copertura ma bisogna dire due cose, la copertura complessiva non dei nuovi nati e non solo se abbiamo tutta la nazione con il 100% e una regione con il 70% magari la media è molto alta però in quella regione ci possono essere ancora delle infezioni quindi dobbiamo innalzare in tutto il nostro paese la copertura vaccinale questo per portarci a livello dei paesi più avanzati non sta bene dove siamo adesso non va bene a me il termine divulgazione non piace più tanto perché io penso che nell'era dei social non sia più sufficiente informare non sia più sufficiente divulgare bisogna comunicare, stabilire un rapporto di empatia un rapporto di fiducia un rapporto bidirezionale che è poi quello che permette di occupare questi spazi che altrimenti rimangono dominio dei cialtroni e dei sovari il morbillo è spesso considerata una malattia innocua il morbillo invece è una malattia che può dare una serie di sequele neurologiche molto importanti e queste sequele sono spesso invalidanti in alcuni casi è addirittura mortale lo stiamo vedendo con questi nuovi casi in Sicilia è una malattia che difficilmente può essere curata in maniera efficace una volta che si è instaurata ma è molto semplice da prevenire proprio grazie alla vaccinazione e quindi dobbiamo cercare di contenere questa malattia e possibilmente un giorno eradicarla scegliere di non vaccinarsi ed esporsi a questo gravissimo e grandissimo rischio nel 2018 credo che non sia accettabile per un paese civile quindi bene la legge in positiva ora però occorre un'opera di persuasione generalizzata e penso che l'argomentazione storica sia molto importante faccio solo un esempio nel 1531 il morbillo decimò intere popolazioni in Messico quindi è una malattia che esiste da molti secoli e non va assolutamente sottovalutata e non va assolutamente sottovalutata e non va assolutamente sottovalutata e non va assolutamente sottovalutata